Siamo qui con Scotto, dopo i due eleni colpiti nell'ultima giornata, finalmente è arrivato il gol con tanto lavoro fatto non solo in fase difensiva ma anche in fase offensiva da parte tua. Hai segnato un rigore pesante e importante nell'economia di questo alba a calcio chiede. Adesso arriviamo proprio alla volata finale, le ultime partite sicuramente non tanto la giovani si mette a 6-1 dei giocatori più esperti, come bisogna procedere in questa fase finale, la stagione regolare? Sicuramente bisogna non mollare ma le partite come questa vanno concretizzate, anche quelli di Sanremo ultimamente stiamo regalando troppo, commettiamo degli errori, delle ingenuità che non possiamo permetterci. eravamo davanti. Il rigore pesava ma era andato dentro, aveva calciato bene e bisognava portare la partita a casa in qualunque modo. Purtroppo l'abbiamo fatto, adesso ci sono questi due giorni per cercare di metabolizzare questa tristezza, se così si può chiamare, e poi da martedì pomeriggio ripartiremo per preparare la partita contro Pondonnas e poi ce ne sono altre al 2. dobbiamo cercare di fare più punti possibili e poi il 5 maggio vedremo a che punto siamo, cosa ci aspetta, ma sicuramente dobbiamo dare di più e non possiamo fare certi errori, soprattutto in questo periodo dell'anno.